Nell'ambito del calcolo secondo motore CENED vedremo come si inseriscono gli interventi migliorativi, come si effettua il calcolo alla visualizzazione in anteprima a video dei risultati ottenuti. Infine procederemo alla creazione dei file XML di tutte e 12 le unità mobiliari di cui si compone l'edificio ai fini del loro caricamento diretto nel portale della regione Lombardia. Premetto che l'attuale suite 2020 versione 3.2 incorpora il nuovo motore di calcolo CENED versione 1.1.11 rilasciato il 15 ottobre 2019. Chiudiamo questa maschera, andiamo nel calcolo di legge 10 e andiamo a selezionare il calcolo CENED. Ho impostato qui tutte le unità mobiliari, in questo modo si riesce con un sol calcolo ad effettuare il calcolo dell'emissione dell'XML di tutte le unità mobiliari. Oppure possiamo selezionare una singola unità mobiliare se vogliamo fare il calcolo soltanto su una unità mobiliare specifica. Dopodiché nella parte sottostante che vedete qui sotto, cioè nella motivazione, voi andrete a dire il motivo della creazione dell'attestato di prestazione. In questo caso è stato selezionato nuova costruzione. Nei tipi di ambiente voi vedrete riproposto quello che è già stato inserito sulle zone come subclassificazione. Negli interventi migliorativi voi dovete precisare per ogni unità mobiliare almeno un intervento migliorativo, nel quale andrete ad inserire il codice dell'intervento, in questo caso il REN6, che corrisponde all'installazione di un impianto fotovoltaico. Dopodiché dovrete andare a determinare il tempo di ritorno dell'investimento. Per calcolare il tempo di ritorno dell'investimento, la classe energetica e la prestazione raggiungibile, voi occorre creare un progetto parallelo nel quale andrete ad applicare la miglioria che avete pensato. Quindi in questo caso io sostanzialmente ho creato un duplicato di questo progetto, che vedete che è questo, dove ho semplicemente inserito un impianto fotovoltaico. Una volta effettuato il calcolo su questo progetto parallelo con la miglioria, voi siete in grado di determinare, una volta che effettuati il calcolo in genere, di determinare le classi energetiche raggiunte e le prestazioni energetiche raggiunte. Per quanto riguarda invece la determinazione del tempo di ritorno dell'investimento, voi potete utilizzare il modulo del calcolo del BAN in modalità di inserimento manuale dei risparmi, nel quale andrete a precisare il risparmio totale di energia elettrica, quindi ovviamente per differenza tra i due calcoli, andrete a precisare il costo dell'energia, andrete a precisare il costo dell'intervento, il costo totale dell'intervento, per cui alla fine voi siete in grado di determinare il tempo di ritorno dell'investimento, che in questo caso è circa 7 anni. Tornando alla maschera di calcolo CENED, quindi siamo in grado di inserire il tempo di ritorno, inseriremo la classe raggiunta con la prestazione energetica raggiunta, che in questo caso è 82,43 kWh al metro quadro annue. Dopodiché, se in questo caso voi avete messo un unico intervento migliorativo, se mettete più interventi migliorativi, oppure anche se ne mettete solo uno, occorrerà anche precisare la classe energetica e la prestazione energetica raggiunta con tutti gli interventi che sono stati inseriti. Quindi in questo caso, essendoci un unico intervento, i due dati corrisponderanno. Vorrei fare un'altra precisazione, che è quella che quando il calcolo di CENED determina una classe energetica A3 o A4, allora voi potete eliminare l'intervento migliorativo, mettere alla spunta qui nessun intervento migliorativo e inserire una nota di spiegazione, perché CENED appunto ammette che si possa non inserire l'intervento migliorativo nel caso la classe energetica sia A3 o A4. Andiamo nella scheda date certificazioni, in questa scheda noi possiamo inserire il numero di iscrizione all'albo dei certificatori, possiamo inserire il titolo di studio posseduto dal certificatore e qui vengono riproposti i dati che erano stati già inseriti per quanto riguarda certificatore, proprietario, amministratore e terzo responsabile. In questa sede potremmo eventualmente fare delle modifiche. Il calcolo che effettueremo noi adesso è effettuato soltanto sull'unità mobiliare 01A, quindi andiamo qui nella scheda e andiamo ad avviare il calcolo solo su questa unità mobiliare. Il calcolo, vedete, è stato completato con successo, adesso selezioniamo questo tasto, selezioniamo l'unità immobiliare che abbiamo scelto per il calcolo, qui vediamo già un'anteprima dei risultati ottenuti in termini di energia primaria, quindi fattori di energia primaria non rinnovabile, con l'EPGLNRN globale, la classe raggiunta. Poi abbiamo la parte relativa all'indice di prestazioni rinnovabili, abbiamo un prospetto indicato per ogni servizio, l'energia primaria non rinnovabile, rinnovabile totale e abbiamo in ultimo qui sotto l'energia utile in condizioni di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria. Riferito alla condizione di ventilazione di riferimento e della ventilazione effettiva, perché in questo caso, se vi ricordate, abbiamo inserito una ventilazione meccanica. Fatto questo, andiamo nella scheda di stampa, andiamo a visionare l'anteprima dell'attestato di prestazione energetica, quindi possiamo effettuare già un controllo visivo, e poi possiamo andare a creare il file XML, quindi andiamo a dare la posizione dove inserire questo file, gli andiamo a dare il nome, magari lo accorciamo un attimo, facciamo salva e selezioniamo il tasto esporta XML, a questo punto il software avverte che l'esportazione è stata completata con successo. Bene, adesso vediamo come si fa invece in un colpo solo, cioè facendo un calcolo unico, ad effettuare il calcolo su tutte le unità immobiliari, quindi anche l'esportazione di tutti gli XML. Quindi si torna nella scheda di calcolo CENED, questa volta si va a indicare che tutte le unità immobiliari, vogliamo creare quindi l'XML di tutte le unità immobiliari, andiamo nel calcolo, avviamo il calcolo, il calcolo è stato completato con successo, lo potete vedere su tutte le unità immobiliari nel report che viene mostrato, selezioniamo di nuovo il tasto, questo warning che voi vedete si riferisce alle unità immobiliari, negozio e uffici che essendo non residenziali prevedono anche il sistema di trasporti, però in questo caso essendo che sono a livello più basso, il sistema di trasporti non esiste, quindi semplicemente è un avviso di CENED. Andiamo su risultati, questa volta vedete che abbiamo un report su tutte le unità immobiliari, su tutte le 12 le unità immobiliari, quindi non soltanto sulla 01A, inoltre abbiamo la possibilità di stampare in un sol colpo tutti gli attestati di prestazione energetica, quindi innanzitutto abbiamo la possibilità di visionare le anteprime di tutti gli attestati di prestazione energetica e poi nell'esportazione dell'XML, questa volta noi inseriremo che vogliamo stampare gli XML di tutte le unità immobiliari, quindi selezioniamo la posizione di stampa, dopodiché qui possiamo anche accorciare un attimo, faccio salva e faccio esporta XML, l'esportazione è stata completata con successo, posso andare anche a controllare, quindi vado nella scheda XML, vedete che il software ha inserito tutti gli XML, ovviamente poi lui ha aggiunto un identificativo dell'unità immobiliare, quindi ci vedete. Grazie.